Ma ciao, bambine! Ciao, bambini! Siete tantissimi! Wow! Stiamo organizzando la festa più speciale di sempre! Eccoli! Venite, venite! È aperto, venite! Eccoli qua! Corri, corri, corri! Vai, vai, vai! Qui stiamo per fare un bellissimo pigiama party! Il coccodrillo come fa? Siete pigiama bellissimi! Si dice mangi troppo! Musica per le mie orecchie! Zitto e mosca, zitto e mosca, zicci sempre! Sembra che a questo pigiama party ci si diverta proprio tanto tutti insieme! La frutta è l'avventura di stagione! Bambini, bambine, voi lo sapete che cos'è un pigiama party? E questa festa è proprio quello che ti manca! Con i pigiama sei invitato, pure tu! Vi aspettiamo al cinema a febbraio in tutte le sale d'Italia per una festa indimenticabile! Il più grande pigiama party della storia! Portate anche i vostri genitori, i vostri amici e tutti i vostri pupazzi! Musica per le mie orecchie! Perfetto! Tutti al pigiama party! Con Carolina, Nunu e lo zecchino d'oro! Ciao!